Attenzione! Rilipata in un'autorizzata di un pietro di livello 4. Avvio isolamento in struttura. Attenzione! Sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore. Attenzione! Sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore. Attenzione! Sequenza di autodistruzione avviata. Stavo giusto pensando a te. E io a te! Mi stavo preoccupando. Siamo una bella squadra. Ma una domanda. La via è libera. Ti prego, dimmi che ce l'hai. No, ma c'è. Controllo sia il campione giusto e possiamo andare. Sì, ma prima. Ho incontrato Annette. Dice che non sei dell'FBI. No, Leon. Perché non vuoi darmi il campione? Ho provato. E credevo di potermi evitare. Mi dispiace. Speravo davvero non finisse così. Allora è vero. Ero solo una pedina per te. Faccio solo il mio lavoro. E io il mio. Abbassa quella cazzo di arma. Sei in arresto. Dammi subito il campione, Leon. O ti farai male. Sparami allora. Se ne sei capace. Ada! Nessuno avrà mai il campione. Resisti! Posso farcela! Lasciami. Pazzetta, ti tengo. Non me lo merito. Non farò. Buona fortuna, Leon. No! No!